Ciao, sono Silvio Mondinelli del Tognaro, saremo in diretta dal Museo Alpinistico del Palazzo delle Paure a Lecco il 4 giugno alle 18.30. Mi raccomando, non mancate. Ah, si parlerà di montagna. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, sono Federica Mingolla. Vi aspetto al convegno Arrampicata Classica in Falesia organizzato dal CAI Lombardia. Non mancate, mi raccomando, vi aspettano delle storie incredibili. Ciao, sono Matteo Della Bordella, alpinista, arrampicatore, ragno di Lecco. Vi aspetto il 4 giugno a Monti Sorgenti e al convegno del CAI Lombardia. Saremo in diretta streaming e vi farò vedere filmati e immagini spettacolari. Parlerò di Patagonia, ma non solo, anche delle nostre Alpi. Vi farò vedere delle mie ultime spedizioni, vi parlerò del mio modo di andare in montagna. Vi aspetto con tante storie e tantissimi. Ciao ciao!